Onorevole Ferrandelli, chi sono i coraggiosi? Ex onorevole, i coraggiosi sono coloro che credono che la Sicilia meriti più del governo regionale Crocette, di questi 90 deputati che stanno lì e che stanno decidendo di mettersi in gioco perché non c'è più nessuno da delegare ma bisogna aggregare trasversalmente chi sa qualcosa e non chi conosce qualcuno. Lei poco fa ha sottolineato ex, infatti è l'unico che si è dimesso. Perché questa scelta? La fiducia delle persone è una cosa seria. Se tu dopo due anni e mezzo vedi che non hai portato dei risultati a casa devi fare dei bilanci e quei bilanci quando sono negativi devono portare al scioglimento dell'Assemblea regionale. Se vedi che tutti gli altri stanno lì per 7 mila euro al mese tu devi fare un gesto di coraggio e di coerenza e quindi ti dimetti. Lei ha detto non lascio il PD ma voglio cambiarlo all'interno. È ancora così? Questo gruppo dirigente del Partito Democratico dovrebbe andare a casa e lo sta dimostrando perché sta lì tenendo ostaggio anche la tanta gente per bene che crede in valori importanti che sta all'interno del Partito Democratico. Noi parliamo ai militanti del Partito Democratico, non solo a loro, parliamo a tutti i siciliani ma di certo non lasciamo questo campo libero. I coraggiosi si strutturano in provincia per arrivare dove e qual è l'interlocuzione con il PD locale? Noi vogliamo cambiare tutti i gruppi dirigenti, vogliamo che i coraggiosi governino la Sicilia e che governino tutte le città nelle quali si andrà il voto a partire della primavera prossima. I dirigenti del Partito Democratico cambiano da territorio in territorio, ci sono dirigenti irresponsabili e molto legati al territorio, ci sono dei dirigenti che invece sono attaccati ad interessi personali. Lì dove i dirigenti saranno aperti alla società staranno sicuramente con i coraggiosi, dove non starà così apriamo un conflitto. Antipolitica e coerenza rispetto a una scelta, che vuol dire per lei nella sua visione delle cose? Significa essere sempre fieri di poter portare avanti la fiducia delle persone, significa mantenere gli impegni, significa avere il coraggio delle proprie azioni ma anche il coraggio di potersi risottoporre all'elettorato con degli obiettivi raggiunti. Noi abbiamo diversi riferimenti in giro per la Sicilia, abbiamo qui su Caltanissetta l'ex sindaco Salvatore Messana che si sta impegnando tanto, tanti militanti anche del Partito Democratico come l'Avvocato Giosale e lo Giudice. Abbiamo nel territorio anche di Gela grandi riferimenti come Alessandro Ascia, come lo stesso gruppo e lo Giudice. Stiamo cercando un gruppo dirigente che sostituisca un gruppo dirigente che ha fallito.